Ma secondo te, il cinema esiste davvero? Che intendi? Non lo so, io lo sto aspettando, ma lui non arriva mai e inizio a credere che non esista davvero. Ma che cosa deve arrivare? Capri, non capisco. Sai, sono pieno di dubbi. Mi piaceva pensare che il cinema fosse come nella vita, toglieva pressione quest'idea, è come se tutto fosse già scritto. Ma a volte ho l'impressione che sia tutto distante. Grazie a tutti. Grazie a tutti.